Noi abbiamo proposto di rafforzare il ruolo di Frontex e abbiamo anche detto tenete conto che la frontiera europea è in buona parte frontiera marittima e che quella frontiera marittima ha la necessità di applicare alcune regole in più tra cui quelle del diritto del mare, ossia di salvare vite umane e che quando tu hai uno che sta affondando, che sta negando, che sta morendo prima lo salvi e dopo gli chiedi se è meritevole di protezione internazionale oppure se è un irregolare, se è meritevole di protezione allora tu lo metti nel sistema di accoglienza e lo redistribuisci equamente in Europa se invece è un migrante irregolare lo rinforzi. Grazie